Un'ultima tappa lunga tre giorni per chiudere il Giro d'Italia nel segno dell'oro giallo. Si chiama Girolio, l'evento promosso ogni anno dall'Associazione Città dell'Olio, che in questo 2013 vedrà il suo atto conclusivo a Bitonto dal 20 al 22 dicembre. Eventi, convegni e maratone gastronomiche che hanno avuto un prologo degustativo ai tavoli del ristorante Il Patriarca. È il momento di dimostrare che l'offerta turistica dei beni culturali, dei musei e delle pinacoteche, e adesso anche integrata da attività commerciali nel centro antico, possa sposarsi con un'offerta enogastronomica di eccellenza che la città di Bitonto è sicuramente capace di proporre al pubblico e ai visitatori esterni, ponendosi come tappa finale di una manifestazione di carattere nazionale con ospiti prestigiosi, di cui ringrazio, mi permetto di ringraziare in modo particolare Michele Mirabella, che ancora una volta si è speso favorevolmente per la città. Giornata Clou sarà sabato 21 dicembre, quando i rappresentanti delle 14 città a sede di tappa del Girolio 2013 si riuniranno a Bitonto per la grande parata finale e per la maratona di show cooking, coordinata dallo chef Emanuele Natalizio. Noi giocheremo con sia gli allievi delle scuole alberghiere, di Bari e di Molfetta per la prima fascia che comincerà sabato mattina. Nel pomeriggio di sabato si passerà la mano alle massaie della città di Bitonto e non solo. Nella fase domenicale arriveranno tutte le giornaliste non gastronomiche, troppo difficile il termine inglese, per finire nella parte serale con un vero show cooking fatto da professionisti, chef a livello nazionale della Nazionale Italiana Cuochi arriveranno e arriverà per la prima volta in piazza il nuovo team manager della Nazionale Italiana Cuochi che è Daniele Caldarulo. Grazie.